Ma Papa Francesco non fu l'unico pontefice a stabilire un dialogo con gli astronauti. Ma infatti, Papa Paolo ha fatto un indirizzo agli astronauti nella Luna durante la notte dell'allunaggio. 1969. Sì, ricordo bene questo momento. Cinque piedi e mezzo. Due mezzo. Ha toccato. Ha toccato il nuovo lunare. No, no. The moon is on the path. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oggi vi facciamo eco, ripetendola come un inno di festa da parte di tutto il nostro globo terrestre. Non più invalicabile confine dell'umana esistenza, ma soglia aperta all'ampiezza di spazi sconfinati e di nuovi destini. Grazie a tutti.